Cari amici, benvenuti. Non è qualcosa che può servire a tutti, ma se vivete in una situazione dove salta spesso la corretta di casa o comunque volete proteggere le varie apparecchiature elettroniche, magari anche molto importanti per voi, dovreste considerare l'acquisto di un gruppo di continuità. Chiamato anche UPS, sigla che sta per Uninterruptible, difficile da dire, Power Supply. Questo video si aggiunge a un altro che ho fatto circa un annetto fa in cui spiegavo appunto cos'era un UPS e vi davo le indicazioni necessarie per capire la potenza dell'UPS che dovete acquistare in base alle apparecchiature a cui vorrete connettere. Quindi se avete anche questa necessità ricercate quel video. Qui vediamo invece la tipologia di UPS che ci sono e anche le differenze tra le varie onde che utilizzano. Sono tre le tipologie. Il primo è definito Standby o anche Offline, il secondo si chiama Line Interactive e il terzo si chiama Online o anche definito a doppia conversione. In realtà se cercate esistono anche altri tipi, però sono come dire delle piccole varianti rispetto a queste tre principali. Prima di vedere le tre tipologie e come si differenziano, identifichiamo brevemente cos'è un UPS. Cioè come potete vederlo? Semplicemente come un dispositivo che si frappone tra la presa di corrente a muro, chiaramente fornisce la corrente e l'apparecchiatura che volete alimentare. La corrente, come dire, esce dalla presa a muro, passa attraverso l'UPS e poi appunto alimenta i vari dispositivi. Si tratta dei modelli più semplici e entrano in funzione quando viene a mancare appunto la corrente dalla presa di corrente della casa o meglio quando c'è un cambio di tensione. Per essere pignoli dovremmo dire che tutti gli UPS entrano in funzione quando il valore di tensione dell'alimentazione appunto del nostro impianto di casa che fornisce l'energia esce da determinati intervalli. Cioè scende sotto una determinata soglia o anche va oltre una determinata soglia. Per semplificazioni in questo video definirò semplicemente quando c'è o non c'è tensione, quindi quando si interrompe la fornitura di energia. Comunque tenete in considerazione quanto ho appena detto. Quando appunto la tensione viene a mancare dalla presa di corrente in una frazione di seconda l'UPS si attiva e attinge l'energia necessaria per alimentare l'apparecchiatura dalle batterie interne e appunto andrà avanti fin tanto che le batterie saranno in grado di offrire una certa carica di energia. La caratteristica determinante di questa tipologia di UPS rispetto agli altri è che l'energia, la corrente così come arriva dalla presa non viene toccata, cioè viene passata direttamente all'apparecchiatura per chiaramente il suo funzionamento. In altre parole non viene migliorata, non viene stabilizzata. I nostri impianti elettrici non sono talmente precisi e buoni da offrire sempre lo stesso preciso livello di tensione, bensì ci sono delle fluttuazioni e appunto le apparecchiature sono fatte per accettare, come dire, queste fluttuazioni senza creare dei problemi. Tuttavia più l'energia che viene fornita è pulita, cioè il segnale elettrico è pulito, meglio è. In casi critici si dice c'è stato uno sbalzo di tensione, quindi proprio quello che vi dicevo prima, cioè la tensione è uscita fuori da questi parametri e quando la discrepanza rispetto alla tolleranza è alta allora può creare chiaramente dei malfunzionamenti. Quindi per ribadire i modelli offline che entrano in azione unicamente quando non c'è assolutamente corrente non fanno nulla per migliorare questa situazione. Questo non significa che non offrono un livello di protezione in più per le vostre apparecchiature, però prendeteli unicamente se volete mettere a riparo i vostri dispositivi elettronici dallo spegnimento improvviso nel caso in cui manca la corrente. Se invece volete proteggerli in generale in termini anche di qualità della corrente dovreste optare per altri modelli. I line interactive funzionano di base come i modelli offline, con la differenza che la corrente quando esce dalla presa a muro prima di arrivare all'apparecchiatura passa all'interno di determinati circuiti che sono in grado di andare a alterare la tensione. Questo significa che nel caso ad esempio di un abbassamento della tensione sono in grado ugualmente di intervenire, badate bene, non solo quando non c'è tensione ma quando c'è un calo intervengono in maniera tale da stabilizzare questo segnale. Avete mai sperimentato realmente un calo di tensione nella casa? Questo succedeva e si vedeva spesso quando c'erano soprattutto ai tanti anni fa solo lampadina incandescenza e a un certo punto si vedeva la luce che diminuiva di intensità. Ecco in quel momento si stava verificando un calo di tensione. Se la tensione ha degli sbalzi, quindi scende sotto una determinata soglia, ma non si interrompe completamente, anche questo comportamento può creare dei malfunzionamenti nell'apparecchiatura. Dipende anche dall'apparecchiatura stessa, se ha lei dei circuiti come dire per prevenire questi problemi. In ogni caso non è qualcosa di buono. Un LAN Interactive quindi arriva a migliorare questa situazione anche quando c'è uno sbarazzo di tensione e non unicamente quando c'è un taglionetto, quindi una mancanza di corrente. Gli UPS definiti online sono quelli che offrono la migliore qualità e sicurezza. Differentemente dagli altri due tipi che comunque lasciano passare la corrente dalla presa all'apparecchiatura, intervenendo più o meno, ma il passaggio è sempre unico, gli UPS online utilizzano sempre la batteria interna per alimentare i vari dispositivi. O meglio, l'energia elettrica entra nell'UPS, questa viene trattata, stabilizzata a livelli di tensione molto precise e puliti e il segnale elettrico e quindi l'energia di alimentazione viene poi inviata all'apparecchiatura per il suo funzionamento. Questo significa che anche un calo di tensione, quindi non solo il taglionetto della corrente, non influisce assolutamente sul funzionamento della batteria perché tutte queste cose avvengono a monte dall'alimentazione lontane dall'ultimo tratto che è quello che appunto alimenta l'apparecchiatura. Se volete il meglio del mondo UPS per offrire la massima qualità della corrente e quindi non solo un backup quando non c'è corrente, dovreste scegliere un modello online. Se ora avete identificato la tipologia di UPS che fa per voi, potreste imbattervi in differenti tipologie d'onda che viene utilizzata da quel determinato UPS. Esistono onde sinusoidali pure, onde quadre o una via di mezzo, chiamata anche pseudosinosoidale o sinusoidale simulata, insomma ci sono diversi modi per chiamare questa via di mezzo. Ma che cos'è questa tipologia d'onda? Beh esistono due tipologie di correnti, corrente continua e corrente alternata. La corrente continua è rappresentata da una linea piatta che appunto rappresenta un fluire di particelle elettriche da un punto A a un punto B nel tempo. La corrente alternata invece ha un'intensità che varia nel tempo. Il flusso delle particelle elettriche a un certo punto si inverte e quindi appunto prende un valore negativo. E se rappresentiamo questo comportamento su un grafico avremo un'onda sinusoidale. Le parecchiature elettriche di tutti i giorni nostre funzionano con questa tipologia di corrente che appunto assume differenti valori di corrente nel tempo seguendo appunto questa onda. È da qui che nasce appunto il dubbio. Se noi utilizziamo un UPS ad esempio che lavora con un'onda quadra e lo utilizziamo per alimentare un dispositivo che invece è alimentato tramite passatemi il termine, chiaramente sto semplificando, da un'onda sinusoidale se accoppiamo questi due elementi che cosa succede? Cioè possono funzionare assieme o non funzioneranno o ci saranno dei problemi? Sono solitamente quattro i fattori che vengono presi in considerazione. Tecnicamente per il modo in cui funzionano solo le apparecchiature molto semplici sono compatibili con un'alimentazione a onda quadra. Tendenzialmente dispositivi passivi, quindi una lampadina o un dispositivo che genera calore che tendenzialmente trasforma tutta l'energia elettrica in energia termica viene come dire dissipata sotto forma di calore. Se non esiste compatibilità tra i vari dispositivi quello che può succedere nel migliore dei casi è che semplicemente non funzionerà. Nel peggiore dei casi l'apparecchiatura potrebbe anche guastarsi. Costringere delle apparecchiature quindi a lavorare con un'onda differente quindi con un'onda quadra potrebbe appunto causare quanto appena detto quindi l'apparecchiatura potrebbe anche surriscaldarsi e con il tempo danneggiarsi. Quando è in funzione un sistema d'onda quadra che alimenta un dispositivo elettrico può creare molte interferenze e queste interferenze possono trasformarsi magari in ronzii comunque dei piccoli rumorini dei vari elementi elettrici. Questi ronzii dovrebbero essere il sintomo che c'è qualcosa che non va o comunque qualcosa che non è perfettamente compatibile. Componenti elettrici che creano un'onda quadra che quindi non devono essere super precisi per creare tutti i livelli di energia differenti di un'onda sinusoidale tendenzialmente sono meno complessi e quindi costano meno. Di conseguenza un OPS basato su onda quadra è meno costoso rispetto agli altri. In mezzo tra onda sinusoidale e onda quadra c'è l'onda sinusoidale modificata che semplicemente potete vederla come una sorta di onda sinusoidale a bassa definizione passatemi questo termine cioè la forma della sinusoidale è creata con tanti piccoli scalini è quindi un'onda che è in grado di avvicinarsi alla forma della sinusoidale però chiaramente non è così precisa come la sinusoidale pura. Il vantaggio di questa soluzione sta proprio nel mezzo cioè non è totalmente non compatibile ma non è neanche totalmente compatibile non è totalmente sicura ma neanche non insicura non crea troppe interferenze ma qualcosa le crea e il prezzo non costa poco ma non costa neanche tanto. Quindi in ultima analisi vediamo quale onda dovreste preferire. Se il vostro obiettivo è avvettere al riparo le vostre apparecchiature unicamente dal momento in cui non c'è corrente quindi non volete che si spengano così da un momento all'altro e volete collegare apparecchiature di poco conto o magari anche un pc se vogliamo però che non è un pc in cui risiede tutta la vostra vita che non avete speso un sacco di soldi per quel pc allora un UPS economico offline a onda quadra potrebbe essere la soluzione. Fintanto che c'è corrente questa viene passata così come esce dalla presa di corrente al pc quindi non avrete alcun tipo di problema di alimentazione quando la corrente non c'è più entra in azione appunto l'UPS con l'onda quadra e tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi se optate per questa soluzione perché volete spendere il meno possibile aggiungere solamente un po' di sicurezza in più ricordatevi che però nel momento in cui manca la corrente dovreste cercare di spegnere quelle apparecchiature il prima possibile così da evitare un funzionamento prolungato che possa creare dei problemi. Alcuni sostengono che un pc quindi un alimentatore per pc non può lavorare con un UPS a onda quadra non è vero però ricordatevi quanto vi ho appena detto non si trova nella sua situazione ideale quindi se optate per questa soluzione usatelo solamente per avere il tempo necessario per spegnere in sicurezza quel pc. Se invece potete spendere un po' di più vi consiglio di prendere quantomeno un UPS con onda sinosodale modificata e magari un modello Line Interactive. Laddove volete invece il massimo della sicurezza e della qualità ovviamente la risposta viene da sé prendete un modello online con un'onda sinosodale pura. Vi ringrazio per avermi seguito in questo video spero di avervi dato un sacco di informazioni comunque spero di avervi chiarito un po' tutto quello che c'è attorno al mondo degli UPS se avete domande fatemele qua sotto nei commenti vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale mi trovate anche sul mio Instagram, sul mio Facebook e noi ci vediamo in un altro video ciao 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 ciao